Stiamo registrando, incredibile! Siamo su Battlefield! Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qua sul canale di Battlefield Games Io sono Carlo e oggi siamo qua di nuovo su Battlefield Arline Per fare un nuovissimo... Perché mi sembra che ci sia qualcuno in casa e invece me lo sto sognando No, comunque siamo qua tornati su Battlefield Arline Per fare un nuovissimo video live commenter Per fare una partita così da cazzeggio Vedremo cosa fare perché, ecco, esatto Volevo utilizzare appunto il K10 Perché è un'arma over bug, over power, over qualsiasi cosa, no? E allora siamo su 100 in team deathmatch O deathmatch a squadre, non lo so, non so cosa cambia, dire la verità E allora siamo qui per fare una partita dove faremo assolutamente Per cagare Assistenza uccisione, figuriamoci, no, se lo uccido io Allora, sta arma No, non mi ucciderai Ti giuro No, è la soffa Che si fotta Non l'avevo visto Allora Quest'arma, sto cavolo di K10 Ha un caricatore da 31, penso Credo Adesso ce lo scopriamo subito Appena sponiamo Dovrebbe avere un caricatore da 31 26, scusate E... Prendete che qua ce ne ho No, però se mi fotti le kill vecchie Cioè L'avevo anche visto sulla minimappa Se questo miro anche Ok, perfetto Ha un caricatore da 26 colpi Il problema è che non fai in tempo a cliccare il tastino sinistro, non destra, del mouse Che sono già finiti Perché ha un ratio di fuoco Che è una cosa veramente allucinante Che cazzo mi sta sparando Non lo so Ah, da sopra Ecco Mi sta sul cazzo questa macqua Perché sono ovunque i nemici E tu non capisci mai da dove cavolo ti sparano Allora Proviamo a fare un gameplay decente Ma Siamo già partiti malissimo Però non ce la potremmo mai fare No Va bene E poi volevo dirmi anche Volevo provare più che altro No, non è morto Cioè Vedete che ho finito i colpi Non faccio in tempo Che cazzo Non faccio in tempo a sparare Perché sono già finiti i colpi In st'arma E volevo Non ci credo dimmi che non era camperato dietro il muletto Perché giuro che Rage quinto Guardate che figlio di puttana questo Mamma mia Vabbè Comunque volevo dirmi Volevo No, quell'amico Volevo cercare di non dire in nessuna In nessun modo in questa partita Ragazzi Perché Ok, questo è morto finalmente Mi stavo accorgendo che negli ultimi video E Almeno Una volta al secondo Dicevo ragazzi Praticamente ogni frase che dicevo Dicevo ragazzi 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 Tutti Sempre era tutto un ragazzi No? E allora in questo video sto cercando di non dirlo mai Perché Potevo essere un po' repetitivo Magari, no? E alcuni infatti Intanto mi commentavate i video Dicendo No, ma ragazzi Non lo dici mai, vero? No, infatti C'hai ragione Ma riguardando i miei video Sembro un deficiente Quindi va bene così Quindi da oggi Spero di non dire più ragazzi E intanto Non troviamo nemici Eccola lì Ti ho visto, eh Ti ho visto, eh Ti ho uccido No, ce n'è uno qua No Che si fotta Che si fotta È troppo tempo che non gioca a Battlefield Adesso bisogna che divento Che torno ad essere più caldo Un po' pro Perché Ho perso un po' la mano Diciamo Però Cerchiamo di Di fare un gameplay decente Almeno Almeno una qualche kill Cioè Non chiedo Tanto Ok Ce n'è uno qua L'ha ucciso Però se mi uccide Tutti nemici No Vedete Allora Cerchiamo di essere un po' più ninja Come eravamo una volta Perché se no Facciamo una fine Bruttissima Come avete appunto a vedere Allora Che cazzo Va bene Comunque sì ragazzi Questo K10 Se state giocando a Battlefield Online Sicuramente lo conoscete Molto bene Perché Vedete Qua quello Ok È un'arma Come avete visto Iper bug Se fate Oh avete rotto le palle Da spararmi da sopra Da sotto Da destra Da sinistra Da dietro Che due palle Mi fate Mi date il tempo di giocare Perché se no Non gioco neanche Quindi Ok Stavo dicendo che Il K10 È un'arma veramente Buggatissima Perché ha un rato di fuoco Della madonna E il nemico Proprio non fate In tempo A Vederlo Come ho visto io adesso Che però Se non gli sparo E Posso fare Guarda Guarda Si butta giusto Piccione C'ha un rato di fuoco Allucinante Vedi non fate In tempo A sparare Che il caricatore È già finito E quando ricaricate In mezzo secondo Avete già ricaricato L'arma Quindi Coglione Non ti avevo mica visto Tale fucile a pompa Nella mappa Ok Questo qua L'ho trollato abbastanza No Guarda Guarda che c'era Il fucile a pompa Stolaiissimo Come dicevo Ha una velocità di ricarica Allucinante Perché guarda Io sparo un colpo Ricarico Boom Ricaricato No non ci credo Non è morto Ricarica Ma che cazzo Ah No No Mi ha trollato lui Sto giro Si era sdraiato per terra Mentre che ricaricavo Ok questo ho fatto Un fail Della madonna Ragazzi Va bene così Però Questo qui Scambio di bar Questo qui E anche battlefield Line Queste trollaggini Allucinante Allucinanti Anzi Allora No Non mi ucciderai No non ce l'ho Al kit medico Perché sono un meccanico No c'è un cecco Che cavolo di arma è Un cecchino Ah forse è un cecchino Semi automatico Non lo so Le armi dei cecchini Non le ho ancora Praticamente Mai usate Perché non sono buono Di usare il cecchino Quindi Su battlefield 3 Ero Era abbastanza bravo Poi da battlefield 4 Non riesco più a usare Il cecchino Ragazzi Non so Per quale Fottutissimo motivo Sarò io Che sarà un abbo Anzi sicuramente Sarò io Che sono un abbo Di fianco Che poi Se faccio ste cagate Quanto sto facendo 5-8 No adesso dobbiamo Recuperare assolutamente Perché quando finirà La partita ovvero Tra 4 minuti Perché voglio far durare Questo video Più o meno 10 Dobbiamo essere Almeno in Così In Almeno in neutro Dai Ok C'è un altro qui No Forse no Occhio no Che mi sparano dai palazzi Adesso Sperate Sta a vedere Che sono là sopra Guardalo Guardalo Cecchino Di merda Aggiungo Ecco Guarda 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 Che mi spara Sto stronzo E' la Però adesso E' la A tua vest Beh Sì vabbè Prima che lo prendo Con sta arma Ecco Lui Il caffè Di sta arma Che dalla lunga distanza Al fa Nienta Praticamente Fa cagarissimo Però vabbè O non si può aver tutto Dalla vita Quindi Se la facciamo Andar bene Adesso mi faccio uccidere male Vedere Vedi l'avevo detto Perché l'avevo visto sul tetto Però non ci si può arrivare sul tetto Senza farsi uccidere Quindi Mi sono fatto uccidere male Siamo 6-10 Questa partita L'ho detto all'inizio del video Che avrebbe fatto cagare Però Va bene così Devo riprenderci Devo riprendere la mano Adesso ragazzi Torneranno ad arrivare Migliardo di video Torneremo Pro come una volta Più che altro Non conosco neanche ancora Benissimo le mappe Di sto gioco Quindi Però mi sa che esco Della mappa Giusto 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 Vediamo No non esco Della mappa Incredibile Incredibile Eccolo T'ho visto Muori ma Ehi non muore Non muorono Va bene 6-11 in teoria Allora volevo provare a vedere Se ci volevo un mirino Almeno Perché io Più che altro La mia pecca È che Devo fare Quante chili Altre 14 Non ce la farò mai La mia pecca Che coi mirini metallici Sono un nabbo di merda Che non riesco assolutamente A usarli Quindi finché non ho un cobra O almeno un reflex Io farò cagare Assolutamente Andiamoci Ma perchè Va bene No ma stiamo calmissimi Va bene che questa partita Ci do a mucchio Perché tanto farà cagare Anzi adesso Dopo quasi quasi Prendere l'M416 Così forse riuscirò A fare qualche chili Almeno ho il reflex Ed è un'arma Overbug Anche quella No Ma dove sono Dove sono Dittemi Ma sono cieco io O O Sono dei ninja loro No perché Non l'ho ancora Ho capito Va bene Stiamo calmi Adesso gioco Con il Ma che cazzo Double kill No ma bello spawn Sì sì Mi ha fatto spawnare davanti Oh cazzo LOL Mi ha fatto spawnare davanti A praticamente tre nemici Va bene Vedete il ratio di quest'arma Potrebbe anche essere No vabbè No vabbè No vabbè Ne avevo appena Cisci tre Figuriamoci se potevo fare Anche il quarto Cioè sarebbe stato Troppo bello No però Come avete potuto Avete potuto vedere I colpi di star Ma finiscono In mezzo Millesimo di secondo Quindi Sostenza e uccisione Figuriamoci Non si da lontano Becco qualcuno E come avete visto Io ho scannato Tre colpi E non l'ho ucciso Perché io ho fatto Quattro hitmarker Sì hitmarker E il tipo Mi ha ucciso Con mezzo colpo Perché non so che arma Avesse E allora mi ha ucciso Non mi ucciderai Ti ho detto C'è un hitman Grazie Quell'amico Dove trovo Eccolo Tu hai visto No ma non sei mica Un ninja Adesso ti vengo a uccidere Forse Se non mi trovo alla luna Eccolo Eccolo No non ci credo Non ci voglio credere Non ci voglio credere No L'avevo visto anche Da un quarto d'ora Vabbè ragazzi Questo video ormai è andato così La partita è a metà Quindi io direi che Possiamo iniziare a salutarci E questo video Si può concludere qui Anche se abbiamo fatto cagare Però vabbè dai ragazzi Uccido quello Uccido quello Non l'ucido Non l'uciderò mai Va bene Abbiamo fatto cagare Quindi niente Sarà per il prossimo video Volevo più o meno Farvi vedere quest'arma Perché è veramente Una cosa allucinante Se avete Battlefield Arline Vi consiglio di acquistarla Perché è un bug Allucinante Se sapete Se riuscite ad usarla E riuscite a magari Metterci gli accessori giusti Ovvero i mirini Che magari presto avrò E tutto quanto Riuscite A settarvela bene Diventa una cosa Veramente Bugatissima Quindi io ve la consiglio E il cecchino qui ha rotto il cazzo Perché adesso non mi ucciderai Ecco grazie Guardate che arriva uno da dietro O dove arriva di qua Propongo Facciamo l'ultima kill E poi ci salutiamo Va bene ragazzi Ultimissima kill Ok Questo video allora non finirà mai Cioè Sarete dicendo Che cazzo ho fatto In un infarto Dove essere Ok Troviamo un enemies Un enemies Dove sei enemies Eccolo E' mio Eccolo Doppia No No Se facevo anche la doppia Volevo mille mila Mille mila like proprio Ma di più Più che mille mila like Quindi niente ragazzi Questo video dura già Fin troppo undici minuti Siamo perfetti Guarda Quello che volevo registrare Ovviamente le mie premesse Di non dire mai ragazzi In questo video Sono andate a farsi benedire Però vabbè dai Ci riproveremo nel prossimo video Niente io spero che vi sia piaciuto Questa partita un po' a scazzo Torneranno presto video Su Battlefield Online Se vi è piaciuto Lasciate un bel like Se non vi è piaciuto Non lo so Mettete un dislike Like lo stesso Come volete ragazzi Un commentino qui sotto Magari scrivendomi qualche arma Da usare per i prossimi video Anche se vi piacerebbero Alcuni tipo Alcuni video tipo Live commentary Dove magari parliamo meglio Senza troppe sclerate In mezzo Perché in questo video è stato Mezza sclerata Mezza recensione Quindi cioè Poteva essere più Un video sclero questo Se volete qualche Magari commentare Dove farò delle recensioni Di qualche arma Scrivetemelo qua sotto Nei commenti Niente poi ragazzi Vi dico di iscrivervi al canale Per continuarci a seguire E poi niente Ci vediamo alla prossima Arriveranno presto oggi Il video su GTA su PC Con Dello E io vi saluto Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi